Quella di questa notte non è stata la prima manifestazione di protesta al poliologistico piacentino. Purtroppo è stata la più tragica. Oggi tra i colleghi e gli amici di Abdel Salam, l'operaio egiziano travolto e ucciso da un tir, c'è un misto di dolore e rabbia, anche perché a perdere la vita è stato un marito, un padre, un lavoratore modello. La sua famiglia si trova temporaneamente in Egitto. La moglie era entrata a Piacenza non appena appreso della tragedia. Il fratello lo ricorda così. Lui è iniziato qua, mi sembra, nel 2003, fino a quest'anno, fino a data d'oggi. Che persona era? Un agiziano bravo, tranquillo, mai l'itecato conoscono qua, mai neanche uno ha preso una cosa di loro. Lo conosco molto bene qua. Gli esponenti del sindacato di base USB contestano la ricostruzione ufficiale, annunciando altri blocchi e iniziative legali. Una manifestazione nazionale è stata indetta per sabato prossimo, 17 settembre a Piacenza. Di secondo il racconto dei colleghi, dei nostri iscritti, il lavoratore pensava che l'autista ha accelerato, ma prima o poi si ferma, perché non immaginava che lo investiva. Io penso che sicuramente anche l'autista pensava che si spostava ugualmente lui. e praticamente l'ha investito, l'ha trascinato fino a dove c'è adesso quel fuoco. E è deceduto dopo mezz'oretta. Faremo una grande manifestazione, manifestazione nazionale, a Piacenza. Sicuramente verrà in coincidenza con il giorno del funerale. Un lavoratore, un compagno, un militante dell'USB, che non solo sarà il giorno del funerale, ma sarà il giorno in cui lascerà l'Italia, tornerà al suo paese in una bara. E vogliamo praticamente salutarlo con tutte le nostre forze, con tutti i nostri iscritti, con tutti i riforsi liberi, conflittuali, tutti quelli che praticamente hanno sempre lottato contro questo atteggiamento padronale, contro lo sfruttamento. Il caso ha avuto grande risonanza a livello nazionale. Oggi esponenti dell'USB sono stati ricevuti al Ministero del Lavoro, picchetti di protesta sono stati organizzati in fabbriche di diverse città italiane. Domani il sindacato di base ha proclamato uno sciopero di due ore nel settore privato.